Mh, ancora le vespe di bimbino, circolare, circolare, adesso ne fermo una, non è in regola, ma si ha la marcia avanti e indietro, il cassettino porta oggetti, sepile normali anti inquinamento, il claxon e il contagiri, bella questa vespe di bimbino, quasi quasi la compro anch'io, però che giornata, Vespe di bimbino, Kinder Baby